La storia della Beata Panacea è una storia che ha delle sorprendenti analogie con una nota favola, quella di Cenerentola. Nonostante siano passati moltissimi secoli, la devozione popolare ha anticipato il riconoscimento della Chiesa. È un caso di vita familiare però vissuto dentro la fede. Indagini ai confini del sacro, lunedì in seconda serata e il sabato alle 8. La storia della Beata Panacea